Ciao ragazzi qui è Blast, avete letto bene dal titolo come è possibile avere Tiago Torres, Edgar Partinus e Paolo Bianchi su una Zuman Event 2 Io dovete sapere che c'è un giocatore in particolare che amo esteticamente e quello è Edgar Partinus Flavio lo sa evidentemente e lo ha inserito su una Zuman Event 2 Quindi sì, c'è la possibilità grafica evidente di poter mettere giocatori che non potrebbero esistere ovviamente Ma che sono presenti, ora devo trovare chi essi siano ma mi pare che proprio alcuni di essi non ce li ho io Non ce li ho ma li vediamo subito perché sono in una partita, la Obscur 11 è una squadra che contiene Partinus, Teo Torres e Paolo Bianchi Ci sarebbe da fare una critica estetica che ora andiamo a fare, una critica tra tanti elogi ma è giusto farla Perché secondo me il gioco può davvero prendere una piega pazzesca, pazzesca Si potrebbero inserire anche Lancer per dire Tutti quei giocatori che sono nel 3 si possono esportare nel 2 Ma a questo punto la critica è questa Ovvero Tiago Torres, vedete l'icona, non è lui ovviamente Nell'immagine Nell'animazione però sì, questo è il bello Quindi il mio consiglio, a parte come è una difesa spaventosa Come cazzo fa ad avere 180 in difesa sto stronzo Come cazzo fa a partito Ad avere 190 in tiro Tiobono Perché l'hai messo in difesa, diamine, lo hai messo in attacco Vabbè, non posso cambiarli perché non è che posso cambiare la sua squadra Però, capite, l'unica critica che mi metto di fare È che il giocatore in campo non è Tago Torres Quindi come tu, secondo me, hai esportato le animazioni di Torres E hai esportato la sua icona Per me potresti esportare anche il suo personaggio nello schema O perlomeno solo la faccia Puoi mettere pure questo personaggio che hai al massimo Gli abbronzi la faccia e gli fai i capelli verdi Almeno ci assomiglia un po' Questo nero con Spartinus non ha nulla a che vedere È proprio l'antitesi E poi c'è Paolo Bianchi che è un altro personaggio Che ha 190 in tiro 100 cazzo, 90 in tiro Ma cosa si è fumato, bevuto? Teniamo conto che siamo in una A-Rome In una 2-11-2 Totalmente italiana Puramente made in Italy Con King oscuro Absolute Royal Presente in campo Tor in difesa Già messato, così come King Anche qua la critica sarebbe, lo ripeto, come già dissi ieri nel video Di mettere le tecniche in più Perché abbiamo due spazi Utilizziamoli Alleniamo anche le tecniche Sarebbe molto bello Sarebbe poi una figata Ma voi mi immaginate Per qualche motivo Io penso che arriverei a baciare Flavio Riuscisse a mettere l'Excalibur sul 2 Probabilmente non ce la farebbe mai Perché è una questione di codici Una questione Poi totalmente complessa Ma voi cazzo Vi immaginate L'Excalibur La mia mossa preferita in assoluto Su una Zoom 11 Più ancora che attualmente a Glaciale Di Sean Da vedere sul 2 Nel mio gioco preferito Fuori di testa Fuori di testa E sarebbe veramente auspicabile Ma anche se non si riuscisse Gradirei Guarda, io giocherei a questa A-Rome Ufficialmente Se il giocatore in icona Quando lo schema Non fosse un giocatore a caso Ma fosse Partinus realmente Quello è il top Siamo arrivati Arriveremo poi a un punto di svolta Veramente effettivo Su una Zoom 11 2 Poi abbiamo Nakata Ovviamente non si smenzisce mai Eppure qua Mancano le due tecniche da inserire Ma secondo me Flavio È qua in una beta 0.1 Quindi sicuramente la squadra Può solo che migliorare Io vi invito a contattarlo In descrizione C'è il suo contatto Su Telegram Chiunque ha un minimo di competenza Voglia O anche solo piacere e interesse Come fece Riccardo Un ragazzo che l'ha aiutato Che non so che competenze abbia Ma Mosso dalla passione Gli ha scritto Contattatelo Aiutiamo Flavio Io purtroppo non ho tempo Già è tanto che voglio fare questi video Non ho tempo Io ho la funzione Di divulgare il progetto Non ho tempo Ma Se qualcuno ne avesse più di me E sono sicuro che qualcuno esiste Date una mano a Flavio Creiamo una Zoom Eleven 2 Diamo onore al 2 Come se fosse un gioco completo Anche dei giocatori del 3 Cazzo Ma che figata Che grandissima figata Poi non so come sia possibile Che il tiro sia così tanto alto Ma secondo me È perché lo ha Allenato E poi modificato i codici Per mettere valori così tanto alti Che non raggiungerebbero mai Questi giocatori Perché non c'è giocatore Neppure Nathan Dark Emperor Arriva a 1-5-2 di tiro Tra l'altro pure qua È modificato male Perché non può avere Su 7 statistiche 5 sopra il 121 Assolutamente no Ok Però non importa E io quello che voglio è questo Io voglio Tego Torres in difesa Che porca puttana Non mi fa passare una palla Però con solo una mossa difensiva È poco Io avrei messo anche una mossa difensiva Di blocco Primo punto E perché non una mossa offensiva Visto che Il body ce l'ha Il fisico 145 Mia poco Poi Byron Love Caleb Bruce Barkley Paolo Bianchi Eccolo qua Io non so come cazzo Arriverò a parare Probabilmente parerò Perché non ha super tecnica Anche qui Perché Peccato gli manchi una tecnica Peccato gli mancano delle extra Altrimenti è Praticamente imparabile Il suo tripegaso Sarebbe imparabile Secondo me Se allenato Pure con le tecniche Poi Nathan E Sanford Ovviamente Absolute Mica quello normale Che cazzo Wow Allora godiamoci questa sfida Perché Stiamo veramente guardando Qualcosa di Di apocalittico Di epocale Stiamo scrivendo la storia Secondo me ne ven due Io sono protagonista Di questa storia Perché la sto provando In anteprima Un progetto Ripeto Made in Italy Ora vediamo Eh vabbè dai No mesh No king Guarda Butto la palla fuori Se riesco Perché Fare il roll così È brutto Quindi non voglio neppure farlo Nel senso che beccare il palo Ci ho provato io Perlomeno Non ho beccato il palo Neanche a volerlo Vabbè Comunque Non è un qualcosa Che voglio provare A vincere Perché vincere Vinco sicuramente Ok Visto che anche io Sono messato E poi c'è una Una grande differenza Fra me e l'avversario L'avversario può avere I tuoi giocatori che vuoi Ma Non ha la testa Non ragiona Perché è un computer Che gioca In maniera autonoma Quindi Ovviamente Non mi aspetto Grandi cose Tanto faccio fallo Che è una cosa Che facevo spesso Anche nella presa precedente Di ieri Quindi mi fa capire Come In realtà C'è un problema Alla base Che probabilmente Sono talmente forti Che piano Fallo facilmente Boh In questo caso no Però io voglio provare Ti do la palla Chi sei tu Partinus Mi pare No sei Torres Questo è Partinus È quanto vorrei Anche che i giocatori Avessero Vabbè Se il loro mossa Erebbe epico Ma avessero Tranquillamente La loro icona La loro icona Nel campo Perché poi Nelle animazioni Ora lo vedremo Compare Paolo Bianchi Compare Ora lo faccio vedere Adesso io spero Di prendere la palla Sanford Di non fargli far gol Perché non se lo merita Anche se Vedere già Sanford Absolute È tanta roba È tantissima roba Ok Può che non ti aspetti Perché non puoi neanche batterlo Però Se fosse Metsato Come anche con le tecniche Ragazzi Non si sfugge Non si sfugge Io qua la parlo Perché ho livello 5 Molto da bene Ma se no Non so Ora passiamo la palla Paolo Bianchi Che è lui Vieni Vieni Tira 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 Merda Però guardate il contrasto Guardate Fate vedere C'è Paolo Bianchi C'è Paolo Bianchi Allora skipper Nathan Bellatrix Nello strettissimo Xen Bellatrix Nathan E ora arriviamo a Partinus Eccolo qua Ci fosse anche la velocità diminuita Vi farei vedere ancora più nel dettaglio Partinus Eccolo qua Con suo Sigma Zone Vedete È lui È lui Edgar Partinus Sono 2 ma le 22 Wow Spettacolo Spettacolo Vi voglio far vedere pure Torres Se riusciamo E anche Paolo Bianchi al tiro Perché sono loro i protagonisti di questo video Evidentemente Non mi interessa vincere Non mi interessa perdere Non mi interessa fare la prestazione Mi interessa Guardare il gioco in maniera costruttiva Ripeto Perché è fondamentale Le tecniche vanno allenate nell'avversario Va allenato anche Sì Oltre che le tecniche vanno Inserite Ove è possibile Ove mancano le tecniche Extra A go go A nastro Voglio vedere Super tecnica A tutti Colpo critico A tutti Forza ragazzi Soluzione più A tutti Voglio vedere Anzi non soluzione Fascino Che comunque con i ct si può mettere pure i maschi Quindi non sarebbe problema Ora Paolo Bianchi tira Io mi faccio prendere gol Non importa Ah in realtà tira normale Ma avete visto È Paolo Bianchi In persona È lui Letteralmente lui Wow 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 E adesso Come punta di diamante Vorrei vedere pure il Teco Torres Col suo Mad Express Che dovrebbe essere la mossa quella del treno Eccolo qua Torres Non se la utilizza Lui è anche in posizione difensiva Minchia Fa dei valori pazzeschi 2-7-3 E come cazzo si batte quel giocatore Io però avrei voluto davvero Che fosse partito sin attacco Invece me l'ha messo in difesa Vabbè Speriamo che Bianchi faccia la tecnica Oh la fa Il colpo supremo Che meraviglia Ma come sono fatte bene le animazioni Cioè lui non ha fatto tanto di che Ha messo Ha importato Paolo Bianchi Però cazzo Inazuma Levent 2 Regge benissimo anche la grafica del 3 Questo è In dubbio Lui però vedete Con il furore addirittura Con Paolo Bianchi Che è super livellato Qualcosa che non potrebbe fare ovviamente E con la mossa in sé Non ha segnato Perché? Perché la mossa non è allenata Perché non è super tecnica Ma va solamente forse a ragazzi E non ha extra in particolare Che possono aiutarlo Ci ho detto Volevo far rivedere la mossa Magari Itago Torres Non mi interessa andare a fare Tutta la partita Io comunque qua penso di pararle sempre Quindi vado anche con più velocità Ma Vorrei vedere Itago Torres In tecnica Con l'animazione Perché mi manca lui Abbiamo visto Partinus Abbiamo visto Anche se in una forma difensiva Vabbè Eccolo dai Usami la tecnica per favore Oh la sta usando Grande Vacci Vacci Torres È bello Che bello Itago Torres Ma quanto sei figo Quanto sei venuto bene In questo gioco Che rabbia poterti vedere Però solamente in icona Statica E non nel gioco Io vorrei vedere Che questo tizio Dei capelli Bianco-arancio Possa essere Torres Secondo me la possibilità Ce l'hai Flavio Tu puoi mettere Torres Secondo me Ma se non potessi Ti ripeto l'iniziativa Che già dissi ieri Eventualmente Colore i capelli Di questo tizio di verde Rendilo più scuro E basta Comunque Assomiglierebbe più a Torres Di quanto Non lo sia ora Ovviamente È bellissimo Anche vedete Anche vederlo Lui che perde la palla È lui E Tiago Torres Lo conosciamo Ragazzi Ci ho detto Io vi ringrazio Ringrazio Flavio Ovviamente E ringrazio chiunque Vorrà aiutarlo Perché secondo me È un progetto Interessantissimo Guardate Partinus In scivolata Che prende la palla Ma è spettacolare Però avrei voluto Che Partinus Facesse qualche mossa Anche una mossa offensiva Vabbè Non è riuscito a farla Perché essendo messo in difesa Calabria Da lunga distanza tira Vediamo un po' Cosa riesce a fare Ma Facciamo così Finiamo la partita Tanto non è Così difficile Arrivare Alla conclusione Però purtroppo Io quel gol L'ho preso Perché me lo sono fatto Prendere Ma la base Non l'avrei preso E ormai avete capito Il motivo Ma l'importante È che lo capisca Flavio L'importante È che lui Capisca questa critica Estremamente costruttiva Ovviamente Che possa migliorare E rendere ancora Piuttosto il gioco Perché quello A cui noi ambiamo Giocatori amanti Da Zoom Eleven 2 È che il gioco diventi Tendenzialmente impossibile Poi In realtà Sarà sempre fattibile Finché Finché Insomma Si gioca al 2 In realtà In qualche modo Penso che Sia difficile Perdere consensualmente Ma Tanta tanta roba Tantissima roba Vedere anche banalmente Ripeto Sanford Oscuro Sembra scontato Ma quando mai Dove l'abbiamo mai visto Sanford Oscuro Al 99 E mezzato Eh Ragazzi C'è da fare solo Dei gran complimenti Facciamo pure pareggio Non importa Ma io spero Che le mie critiche Vengano accolte In positivo Perché qui scriviamo La storia Tra l'altro Adesso sarebbe Andare a vedere L'album Perché secondo me Anche quello è cambiato Solo che Come cazzo si chiamano Quei giocatori Non lo so Non riesco a riconoscerli Sarebbe andare a vedere Uno ad uno E sperare Di trovare i tizi Ma secondo me Dovrebbero spuntare Facciamo così Metto in pausa E li cerco Ecco trovato Vi basta vedere Paolo Bianchi In realtà Vorrei cercare Anche 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 Partinus Non sta così tanto bene Perché avrebbe la K E dovrebbe stare In un altro luogo Però quindi Ci fa capire Che questo giocatore Ha la B E lui l'ha comunque Inserito in questo modo Fantastico Guarda sarebbe bello Trovare davvero Anche Partinus E Torre Se neanche li trovo Ecco Torre Trovato Tra l'altro Nelle lettere G Però Vedete C'è il suo personaggio E' molto più sminzo Secondo me Torre Sarà un pochino più grosso Però Comunque Dalla sua grande figura E dove cazzo è Partinus Sono sicuro di Di poterlo vedere Lo vorrei vedere Eccolo Mannaggia lui L'ultima pagine Guardatelo qui Che figata Vabbè Figo Hai un po' camera Posso fare delle cose di più Cosa fa X Cosa succede Camera cosa fa Niente Pensavo Ficesse qualcosa Sto tasto Invece non fa Un cazzo E' bellissimo Bellissimo Quindi Cari amici Supportiamo questo progetto E chissà Magari in futuro Un prossimo video Ciao ciao